Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook. Detto questo, diamoci dentro col video. È il 12 giugno del 2017 e ci troviamo sulla costa orientale della Sardegna, quando si consuma un omicidio dai contorni che sfumano nel giallo. Erika Preti, la protagonista femminile di questo caso, ha 28 anni e proviene dalla provincia di Biella, in Piemonte, ma si trova in vacanza in Sardegna. Alloggia a Lou Fraili, una frazione di San Teodoro, con il suo fidanzato storico, il trentenne Dimitri Fricano. I due stanno insieme da circa dieci anni. Lei aveva studiato al liceo psicopedagogico e lavora in un negozio di abbigliamento per bambini nel centro commerciale Iorsi. Lui, residente in località Vandorno, sempre in provincia di Biella, è impiegato in una catena di calzature, Leone Scarpe. Entrambi amano viaggiare. Erika e Dimitri soggiornano in una villetta di proprietà di alcuni amici che non dista troppo dal mare. La casetta, poco più grande di un monolocale, si colloca lungo la strada principale che collega il centro della cittadina con le altre borgate turistiche. Erika si sta preparando per partecipare a una gita in gommone a tavolara già programmata. Sta sistemando gli asciugamani in borsa quando entra nel soggiorno e viene subito aggredita. Questi sono stati gli ultimi passi che ha percorso prima di essere assalita. Erika muore a causa di una lunga serie di ferite d'arma da taglio, eppure sia i vicini di casa che i passanti non l'hanno sentita gridare né hanno notato degli intrusi. Poi le urla di Dimitri che esce di casa barcollando allertando alcuni turisti e i carabinieri arrivano sul posto poco dopo. Erika Preti è riversa sul pavimento in una puzza di sangue. Dimitri appare sotto shock e riporta alcune ferite sulle braccia. Vaga nell'ambiente e biascica parole confuse. Racconta in lacrime di aver subito un'aggressione. Dei rapinatori sono entrati in casa. Dimitri viene ricoverato all'ospedale di Olbia, piantonato dai carabinieri, mentre a Fralungo, in Valle Cervo, il paese d'origine di Erika, la notizia della sua morte si diffonde suscitando una profonda tristezza. Sono due le prime ipotesi formulate. La coppia potrebbe essere stata aggredita, come racconta Dimitri, oppure questo è il caso di un litigio sfociato nel sangue. I carabinieri infatti attendono che i medici prestino le cure necessarie al giovane ricoverato che presto verrà interrogato. Non appena si riprende un po', Dimitri spiega che stava uscendo dal bagno quando è stato aggredito. Lo hanno colpito con un oggetto che lui descrive come durissimo. Dopodiché ha perso i sensi. Innanzitutto c'è da chiedersi. Chi aveva interesse a rapinare i due fidanzati biellesi in vacanza in Sardegna da appena una settimana? Inoltre c'è proprio qualcosa che non torna nel racconto di Dimitri. Se aveva davvero perso i sensi, come poteva uscire di casa e mettersi a gridare disperatamente affinché alcuni turisti lo notassero? Dimitri, come detto, riporta alcune lesioni al capo e diverse ferite al braccio. I medici dell'ospedale di Olbia riferiscono che è ancora sotto shock. Tuttavia le sue condizioni non sono preoccupanti. Ripete sempre le stesse cose quelle che ora riassume il suo avvocato con queste parole. Non c'è stato un litigio. I due ragazzi hanno subito un'aggressione. Al racconto di Dimitri credono anche la madre e il padre di Erika, arrivati a San Teodoro insieme ai consuoceri. Sostengono che la coppia viveva una storia serena senza mai litigare. Anche amici e conoscenti confermano il loro affiatamento e quella forte passione per i viaggi che aveva condotto Erika e Dimitri in Sardegna. A ospitarli erano Alberto Recanzone e la moglie Donatella Borille, amici di origine biellese che da tempo lavoravano sull'isola e con i quali stavano trascorrendo le vacanze per il terzo anno consecutivo. Dovevano infatti andare in gita con loro di lì a poco. Nessuno immaginava che Erika avrebbe incontrato la morte in quel posto paradisiaco. Nonostante tutti credano alla versione di Dimitri, i carabinieri non ne sono ancora convinti. Anzi, la pista privilegiata per le indagini non è quella dell'aggressione. Il motivo? All'interno della villetta di Lou Freyley non si rilevano tracce di irruzione né il caos tipico che fa seguito a una rapina. Possibile che qualcuno avesse unicamente intenzione di aggredire Erika e Dimitri? Chiunque entri nella stanza numero 5 del reparto di chirurgia sente Dimitri Fricano ribadire il suo amore per Erika. Stavano insieme da dieci anni come avrebbe mai potuto farle del male. Il trentenne guarda in faccia i genitori di Erika e lo ripete di nuovo. Si lascia travolgere dal pianto e poi si sfoga ancora spiegando che sono stati aggrediti ma non sa da chi. Non ricorda nient'altro. Sa soltanto di essersi ritrovato a terra. Appena è riuscito a rialzarsi si è precipitato fuori dalla villetta per chiedere aiuto. Quindi come forse avrete notato la versione di Dimitri è leggermente cambiata. Non ha perso i sensi ma è caduto a terra dopo essere stato colpito. Dimitri a questo punto viene indagato per omicidio volontario anche se come sottolineano in procura al momento si tratta di un atto dovuto per consentire agli avvocati di nominare un consulente per l'autopsia. Questa notizia chiaramente sconvolge sia la famiglia preti che la famiglia africano. Le due coppie di consuoceri si conoscevano bene e si frequentavano. Erano anche solite andare in vacanza insieme. Dall'autopsia effettuata sul corpo di Erika emerge un'unica certezza. Si rilevano due colpi fatali inferti alla gola con un coltello da cucina. In tutto però emergeranno 57 coltellate. Tra le ipotesi gli inquirenti non escludono che sia stato proprio il compagno a ucciderla con l'arma in questione ritrovata sulla scena del deritto. I due prima di partire con la gita in gommone stavano infatti affettando il pane. Ma gli investigatori non hanno comunque abbandonato la pista dell'aggressione a scopo di rapina. Così come sostenuto fin dal primo momento da Dimitri Fricano che è ancora ricoverato all'ospedale di Olbia. Al medico legale che ha effettuato l'autopsia sul corpo di Erika il PM conferisce l'incarico per un esame sulle ferite riportate da Dimitri. Vuole appurare se siano compatibili con un'aggressione a scopo di rapina e quindi con la testimonianza resa dal giovane che continua a professarsi innocente. Intanto il corpo di Erika Preti viene consegnato ai familiari che provvederanno alla cremazione in Sardegna e poi porteranno le ceneri al cimitero di Biella. Optando per la cremazione i genitori vogliono semplicemente seguire un desiderio che la ragazza aveva espresso in vita. Dimitri invece trasferito nel reparto di psichiatria dell'ospedale cambia di nuovo la versione dei fatti rendendola più dettagliata. Racconta che un uomo si è introdotto in casa, ha rubato un orologio e 500 euro in contanti, lo ha colpito con una pietra, facendolo cadere e ha ucciso la sua fidanzata con il coltello con cui lei stava preparando dei panini. Alberto e Donatella, i proprietari biellesi della villetta in Sardegna, confermano questa versione di Dimitri. Donatella è intervistata da pomeriggio 5. Racconta «Sono stati aggrediti da un uomo scuro di carnagione con i capelli rasati e da casa sono spariti il suo Rolex e un borsellino con 500 euro. Con mio marito siamo anche andati a vedere Dimitri in ospedale e lui è disperato. È stato colpito in faccia con una pietra. Una persona è entrata in casa e lo ha colpito, ma l'aggressore aveva già ucciso Erika. Lei era già per terra, non può essere stato lui. Si volevano troppo bene, erano troppo affiatati. Dimitri non avrebbe mai potuto fare del male a Erika, piuttosto ne avrebbe subito lui. Ma ecco che accade qualcosa che smentisce clamorosamente quanto riferito da Dimitri. Il 14 giugno i carabinieri del Risse eseguono un sopralluogo nella villetta del delitto. Nel frattempo dalla procura di Nuoro comunicano che i circa 500 euro in contanti e il Rolex del ragazzo non sono stati rubati dalla casa di vacanza, ma sono stati ritrovati dagli investigatori. Trolla così l'ipotesi del rapinatore che si sarebbe impossessato del bottino dei due fidanzati e viene smentito ufficialmente il racconto di Alberto Recanzone e Donatella Borille, che confermavano la versione di Dimitri davanti alle telecamere televisive. Insomma, secondo le indagini dei carabinieri non si riscontrano tracce evidenti della presenza in casa di sconosciuti. Non sono state trovate impronte nuove né segni che facciano pensare alla presenza di altre persone nella villetta di Lou Friley, dove pare non manchi proprio nulla, il che porta a escludere di fatto la pista della rapina. Ma poi un rapinatore che vuole rubare un Rolex 500 euro vede una ragazza e infierisce su di lei colpendola con 57 coltellate? A me sembra un po' esagerato. Per di più, anche secondo l'esito dei primi accertamenti svolti dai militari del Risse, non emergono impronte digitali di persone strane. Tuttavia, il primo indizio potrebbe fornirlo quel coltello da cucina usato per affettare il pane, che sembra corrispondere all'arma adoperata per aggredire e uccidere Erika. Dunque la domanda è, chi l'ha impugnato? Una risposta che forse individueranno proprio i biologi del reparto investigazioni scientifiche. Intanto i carabinieri della compagnia di Siniscola, guidati dal capitano Andrea Leacche, indagano per stabilire se tra i due fidanzati fosse successo qualcosa, analizzando anche le conversazioni WhatsApp intercorse tra i due. Il 17 giugno l'intero paese di Pralungo e il cuore di tutti i biellesi si stringono intorno alla famiglia di Erika Preti, in occasione dei funerali, celebrati alle 10, nella piccola chiesetta della Trinità. La comunità non vuole dimenticare e sceglie di intitolare a Erika l'area verde che circonda l'edificio religioso, che verrà attrezzata a giardino. Mentre i biologi del RIS compiono ulteriori indagini, qualcuno ipotizza che nuovi elementi potrebbero emergere dalle registrazioni delle telecamere di un ristorante situato a poche centinaia di metri dalla villetta. I due fidanzati di Biella avevano cenato lì la sera prima, il sabato per l'esattezza. In realtà i carabinieri hanno già sequestrato quelle registrazioni e verificato più volte che lungo la strada inquadrata non si girassero personaggi sospetti o in fuga. La ricostruzione degli eventi però, almeno nella prima parte, ora risulta finalmente più chiara e ve la fornisco di seguito. Sono le 10.50 di domenica mattina, quando Erika, Dimitri e gli amici che li ospitano, Alberto e Donatella stanno per partecipare a una gita in gommone. Alberto è nella sua agenzia immobiliare, Erika sta preparando i panini per il pranzo. Donatella monta in macchina per raggiungere il marito. Dimitri esce a piedi diretto nella tabaccheria distanti a 200 metri per comprare le sigarette. Tuttavia non arriva alla rivendita, rientra in casa perché deve urgentemente andare in bagno. Visto che la casa non ha un ingresso secondario, di certo Dimitri incontra di nuovo Erika mentre lei è ancora in vita. Secondo il racconto di Dimitri, infatti, soltanto quando esce dalla toilette viene colpito da un oggetto durissimo impugnato da un uomo di carnagione scura con addosso una canottiera nera o verde. Quando Dimitri rinviene, Erika è già morta e lui esce di casa ferito e barcollante. Lo vedono dei turisti che avvisano il titolare del vicino negozio di Nautica. Il commerciante quindi entra in casa e resta come impietrito dalla scena che gli si para davanti agli occhi. L'allarme ai carabinieri giunge verso le 11 e un quarto. Gli uomini del RIS trovano in giardino una pietra pomice spaccata in due che finisce al vaglio degli agenti. Quanto alle macchie di sangue che si rilevano sui vestiti di Dimitri sequestrati dai carabinieri, questi lo sostengono nella difesa. Derivano infatti da un contatto postumo al decesso di Erika e non si configurano come degli schizzi tipici di un atto crudele ed efferato. Arriviamo al 24 giugno quando Dimitri viene dimesso dall'ospedale di Olbia ed è pronto per tornare a casa. L'11 luglio vengono effettuati nuovi accertamenti nella villetta del crimine. Si parte dei legali di Dimitri Fricano e dei loro consulenti autorizzati dalla procura di Nuoro che coordina le indagini. Mentre si continua a lavorare per dare un volto all'assassino di Erika ecco che dopo 41 giorni arriva la confessione di Dimitri il quale ammette ai suoi avvocati difensori di essere stato lui a uccidere la fidanzata. Tutto era iniziato da un comune litigio pare per un tavolo ricoperto da briciole di pane. Al rimprovero di Erika che ripeteva al fidanzato di essere incapace di mantenere un po' d'ordine Dimitri aveva risposto insultandola. Poi dalle parole i due erano passati alle minacce fino alla tragedia. Erika lo avrebbe colpito alla testa con un fermacarte in pietra adagiato sul tavolo. Probabilmente per difendersi anche se l'esatta dinamica dei fatti va chiarita. Lui con una serie difendenti ricorrendo al coltello da cucina con cui l'avrebbe uccisa. Ora che gli eventi sono stati delineati bisogna allertare subito la procura di Biella. Gli avvocati difensori e Dimitri raggiungono il terzo piano del palazzo di giustizia e l'ufficio dei carabinieri di polizia giudiziaria. Poi Dimitri viene portato in carcere. Raffaella Molino sindaco di Pralungo commenta la notizia della confessione di Dimitri Fricano dicendo Erika in questo modo è stata uccisa due volte. Quel ragazzo per dieci anni è stato accolto in casa dai genitori di Erika e dalle nonne. In famiglia lo consideravano come un figlio. La ferita ora si è riaperta nel modo peggiore. Il fatto che l'abbia uccisa lui distrugge il poco che ancora era rimasto di quella brava ragazza alla quale tutta Pralungo voleva bene. È giusto che ora Dimitri paghi per questo delitto. I genitori di Erika, Fabrizio Preti e Tiziana Sulman non si danno pace e affermano. Dimitri era con noi da sempre, lo abbiamo accolto in famiglia con affetto e abbiamo sperato fino all'ultimo che fosse innocente ma ora vogliamo capire come veramente sono andate le cose. Mamma Tiziana e papà Fabrizio non possono accettare che siano bastate poche briciole sparse sul tavolo della cucina per scatenare una violenza simile, per spingere il giovane che loro ben conoscevano a uccidere la sua fidanzata con un coltello trovato lì vicino. Al contrario alcuni conoscenti della famiglia affermano. Ce lo aspettavamo. Era evidente che la storia raccontata da Dimitri reggesse poco anche se nessuno voleva davvero crederci ma la cosa che più fa male è il fatto che lui sia stato capace di insistere su quella versione che non abbia voluto ammettere ciò che aveva fatto. Ha finto per settimane e ora è giusto che saldi il suo debito senza sconti. Arriviamo al 25 luglio quando il GIP Paolo Rava convalida il fermo disposto dalla procura dopo la confessione di Dimitri. Viene quindi respinta la richiesta degli arresti domiciliari presentata dalla difesa della giovane. Dimitri è controllato a vista dagli agenti della polizia penitenziaria per scongiurare gesti dettati dal grande sconforto in cui è precipitato dal momento in cui ha iniziato a ricordare i fatti di cui è stato protagonista. Si traccia come un punto fermo il movente in cui è maturato il delitto. La relazione tra Dimitri ed Erika era in crisi da tempo e quella vacanza in Sardegna a casa della coppia di amici biellesi rappresentava l'ultimo tentativo di riconciliazione. L'immagine di una coppia affiatata e serena degna di comparire in uno spot pubblicitario era dunque lontana dalla realtà. Dopo averle inferto una prima coltellata Dimitri Fricano ha preso Erika Preti per i capelli, l'ha trascinata per la camera, sbattendola poi contro i mobili e poi quando lei era già a terra ha afferrato un secondo coltello da cucina e l'ha uccisa. Sono queste le conclusioni a cui è arrivata l'indagine coordinata dal procuratore di Nuoro Andrea Garau. L'accusa carico di Dimitri Fricano risulta quindi di omicidio volontario con l'aggravante della crudeltà oltre che di simulazione di reato per aver inscenato una rapina mai avvenuta. Arriviamo al 9 febbraio 2018 quando emerge che Dimitri Fricano potrebbe essere giudicato con il rito immediato velocizzando i tempi processuali. La richiesta viene presentata dal procuratore di Nuoro Andrea Garau che ha scelto di saltare l'udienza dal giudice delle indagini preliminari perché ritiene che il tablò di prove ottenuto in questi mesi sia particolarmente solido. La risposta della difesa che intanto mantiene uno stretto riservo pare intende appuntare su un omicidio scaturito da un litigio tra fidanzati in crisi. La prima udienza viene fissata per il 29 maggio 2018 davanti alla corte d'assise di Nuoro. La perizia psichiatrica eseguita su Dimitri Fricano detenuto nel carcere di Ivrea potrebbe tuttavia presentare nuovi elementi che consentirebbero ai difensori di rimescolare le carte. Da quel poco che trapela da questa perizia effettuata da una psichiatra appartenente al team costituito dalla difesa, Dimitri Fricano, come noto, aveva dapprima rimosso ogni ricordo del delitto, aggrappandosi alla versione che un uomo, descritto in modo approssimativo, aveva tentato una rapina nella villetta delle vacanze. Soltanto dopo più di un mese, grazie al supporto dei genitori e in particolare della madre, aveva ricordato come era morta davvero Erika, superando una sorta di blocco psicologico. A quel punto aveva deciso di confessare raccontando anche di un rapporto che risultava idilliaco soltanto in apparenza, ma scandito dai continui rimproveri della fidanzata che lo avevano condotto a quell'esplosione di violenza. Arriviamo al 23 febbraio del 2018, quando la difesa di Dimitri Fricano chiude il giudizio abbreviato. La decisione deve essere ratificata da un'ordinanza del giudice e la richiesta viene accolta. Nel frattempo la difesa ha depositato i risultati delle proprie indagini sviluppate da un team di consulenti specializzati. Il 20 marzo il gruppo del tribunale di Nuoro ordina di sottoporre a perizia psichiatrica Dimitri nella prima udienza del processo con rito abbreviato a carico dell'imputato, quindi a porte chiuse. Se vi ricordate il PM Andrea Garavo aveva chiesto per lui il giudizio immediato, superato poi dalla richiesta del rito abbreviato presentata dai difensori di Dimitri Fricano. L'udienza viene aggiornata a giovedì 22 marzo, quando il giudice conferirà l'incarico al perito psichiatrico. Secondo i periti nominati dal gruppo di Nuoro, Dimitri Fricano è sano di mente, anche se affetto da un disturbo dell'adattamento unito ad ansia e umore depresso, che però non va inquadrato come un reale disturbo della personalità. Al contrario, la psichiatra forense della difesa, che si chiama Daniela Ponzetti, avrebbe ravvisato nelle azioni dell'imputato una compromissione parziale transitoria della capacità di volere. Emerge soltanto adesso che Dimitri era in cura da tempo al centro di igiene mentale e assumeva da anni psicofarmaci. Dunque quel giorno avrebbe perso completamente la testa, non riuscendo più a controllarsi. Il 26 ottobre del 2018 il PM richiede una condanna a 30 anni di carcere. Secondo il magistrato, Dimitri Fricano era perfettamente in grado di intendere di volere quando commesso il delitto. Il giudice di Nuoro accoglie la richiesta del PM e condanna Dimitri Fricano a 30 anni di carcere, ma la condizione del rito abbreviato ha assicurato al giovane lo sconto di un terzo della pena per l'omicidio della sua fidanzata. Nel soppesare l'entità della condanna un grosso carico ha avuto la menzogna iniziale di Dimitri Fricano, che aveva dichiarato come un aggressore sconosciuto l'avesse ferito prima di uccidere Erika. E invece, sorpresa, le ferite di Dimitri Fricano sarebbero state autoinflitte, a partire dai colpi di pietra sul capo per proseguire con le coltellate alla mano e sulla coscia. Se le sarebbe infatti procurate, quando posizionandosi in ginocchio e con Erika già a terra, le avrebbe inflitto 57 coltellate. La confessione dell'imputato non è parsa sufficiente per ottenere le attenuanti generiche. Inoltre, il giudice lo considera senza pentimento. A ogni modo, le prove raccolte avrebbero portato all'assegnazione di quella condanna, anche se Dimitri Fricano non avesse confessato. Arriviamo a questo punto al 23 settembre 2019, quando Dimitri torna in tribunale per il processo d'appello. Dopo la condanna, il giovane è rimasto nel carcere di Ivrea, dove pare sia stato sottoposto a una cura per risolvere i suoi problemi di salute mentale, che lo tormentavano da molto prima del delitto. Secondo il perito della difesa Daniela Ponzetti, la psichiatra forense di Ivrea, questi disturbi avrebbero scatenato la reazione di Dimitri Fricano al momento dell'omicidio. Su questi argomenti cercheranno chiaramente di fare leva i suoi legali per ottenere una riduzione della pena. Il 25 novembre 2019, il giudice della Corte d'Appello di Sassari stabilisce che Dimitri Fricano deve essere sottoposto a una nuova perizia psichiatrica. Il perito incaricato deve non soltanto verificare le condizioni psichiatriche di Dimitri al momento del delitto, ma anche esaminarne il profilo neurologico, dato che l'ex commesso soffre da sempre di epilessia. In sostanza, l'esperto scelto dal tribunale confermerà quanto espresso durante il processo di primo grado dalle precedenti perizie. Arriviamo all'8 aprile del 2022. La vicenda giudiziaria di Dimitri Fricano giunge al termine. La prima sezione della Corte di Cassazione respinge il ricorso presentato dai suoi avvocati, confermando di fatto la condanna a 30 anni arrivata dopo i due primi gradi di giudizio. Questa storia mi ha lasciata davvero sconcertata onestamente. A mio avviso fa paura pensare di non poter mai essere in grado di conoscere e prevedere a pieno la persona che abbiamo di fronte, anche se la frequentiamo da circa dieci anni e abbiamo condiviso con lei un sentimento importante come l'amore. La mente umana può essere pericolosa oltre che misteriosa e complessa, ma lo stesso si può dire anche dell'animo umano. Voi, come la pensate su questo caso? A ogni modo, come sempre, nei miei video cerco di esortare a denunciare ogni comportamento del proprio partner che possa risultare allarmante, con la speranza di ricevere prontamente tutto il supporto necessario. Al tempo stesso voglio anche ricordare le vittime di questi crimini atroci e oggi il mio pensiero è con Erika. Detto questo, ho finito di parlare in questo video. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo caso come già vi ho chiesto, ma soprattutto lo conoscevate? Insomma, come al solito noi ci becchiamo nei commenti che io leggo tutti. Nel frattempo vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti!